Leggo misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente e mi pare quindi cosa lodevole. Sarebbe lodevole se vivessimo sulla Luna o in un mondo diverso da quello che è la realtà effettuale. Esiste una ragione di Stato e lo Stato esiste perché abbia ragione. In un caso come questo l'attuale decreto appare ridicolo, risibile, perché i 35.000 euro, i 40.000 euro che si annunciano come le quote su cui porre delle riduzioni, sono assolutamente impossibili, vista la situazione reale. Occorrerebbe ben di più eliminare la tassazione e ben di più promuovere per dare a quelli che non hanno. Per cui mi pare che c'è un prima e c'è un dopo. E noi stiamo galleggiando in un limbo come se fingessimo che non c'è quello che dichiariamo a ogni intervento essere la situazione drammatica in cui vive non la salute soltanto dei cittadini ma la vita, l'economia, il lavoro. Dove non c'è lavoro non si può immaginare di porre né tasse né ridurre tasse. Ridurre rispetto al reddito che non c'è è semplicemente ridicolo.